è un disastro c'è un'intera piscina di testosterone di laggiù e io non sento niente quaggiù è ufficiale l'estrogeno ha lasciato l'edificio va bene la spiazzata ora fa una piazzata se io non posso mai più parlare di Harry allora lei non può parlare di ormoni non posso ingoiarne un altro boccone male luffa signore siamo venute qui per divertirci insieme e io essendo la supermaniaca del controllo che sono ho organizzato un'intera giornata innottata di mega Abu Dhabi spasso porterò questa spiazzata a farsi una spassata